che siano di sinistra, di destra, insomma non ne hanno indovinato uno di sindaco e vedere questa città, la più bella città del mondo, ridotta così e gli americani, scaltri, che fanno i commenti che non fanno piacere qualcuno potrebbe pensare che magari noi leghisti gongoliamo perché vediamo queste immagini non è così, non è così e questo, devo dire, purtroppo in questo momento dobbiamo entrare nel presupposto che questo sindaco e questa giunta non vanno bene non vanno assolutamente, Roma deve essere commissariata il più presto possibile bisogna correre i ripali, c'è il giubileo a breve e rischiamo di fare un gran casino